Per il Como quella che inizierà nel weekend del 12 e 13 agosto sarà la seconda stagione consecutiva in Serie B. Alla guida della squadra è stato confermato mister Giacomo Gattuso. Rispetto allo scorso campionato ci sarà un unico derby lombardo, quello con il Brescia. Monza e Cremonese sono state infatti promosse in Serie A. Un torneo che sarà di grandissimo prestigio con una serie di club di grande tradizione a partire da Genoa, Cagliari e Venezia, retrocesse dalla Serie A. Tutte società di capoluoghi di provincia, a parte il Cittadella. Per i lariani ci saranno sfide contro squadre incrociate in passato nella massima serie come Bari, lo stesso Brescia, Modena, Parma, Perugia, Pisa e Regina. Il Palermo, promosso in B dopo la vittoria dei play-off contro il Padova, è la ventesima squadra della stagione 2022-2023. A completare l'elenco definitivo delle protagoniste in campo, Ascoli, Benevento, Cosenza, Frosinone, Spal, Suttirol e Ternana.